Per scaldare la casa conviene la linea da ardere o il metano? Questa domanda ve la siete posta in tanti a seguito degli aumenti dell'energia tra il 2021 e il 2022. Oggi vi daremo questa risposta ma non dal punto di vista preferisco uno preferisco l'altro ma dal punto di vista di quanta energia termica vi danno uno e l'altro. Partiamo da quanto gas metano è necessario scaldare la nostra abitazione. Allora la statistica ci dice che ci servono circa 1450 metri cubi annuo per scaldare una casa di 100 metri quadri. 1450 metri cubi di gas metano cosa significano economicamente? Questa è una domanda molto complicata perché negli ultimo anno in particolare dal gennaio 2021 al gennaio 2022 c'è stato un forte rincaro dei prezzi. Stimiamo circa il 60% di rincaro medio. Partendo da questo dato praticamente considerando a gennaio 2022 un costo di 1,36 euro al metro cubo per il metano e un consumo di 1450 metri cubi di metano annuo ci troviamo con 1972 euro all'anno di metano per scaldare la nostra abitazione. Ma quanto calore sviluppa? Quindi quanta energia termica sviluppa un metro cubo di metano? Un metro cubo di metano sviluppa 36 megajoule al metro cubo. Ok? 36 megajoule non sono facili da toccare, però non è questo il problema. Non ci interessa se non capiamo quanto sono 36 megajoule. Sì, sono tanti, è un numero grande. A noi quello che ci interessa è capire, ma la legna, quanti ne ha? Te lo dico subito. La legna varia. La legna varia in funzione dell'umidità. E quindi dopo, quando arriviamo a fare il paragone con la legna, vedremo che nel confronto dipende quanto è secca la legna che sto comprando. Ma torniamo a noi. Torniamo al metano. 36 megajoule ogni metro cubo vuol dire che se noi consumiamo 1400 metri cubi e ogni metro cubo ci dà 36 megajoule, otteniamo 52.200 megajoule totali necessari in un anno per scaldare la nostra abitazione. Ora, di questi 52.200 megajoule, che sono quelli a me necessari per scaldare l'abitazione, la mia abitazione non li prende tutti. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che la nostra caldaia ha un rendimento. E se non sapete cos'è, adesso ve lo dico in due parole. Del metano che la nostra caldaia consuma, che usa per produrre calore e scaldare l'acqua, nella mia casa non mi arriva tutto questo calore. Perché parte lo disperdo nella caldaia a causa della combustione e parte lo disperdo nel passaggio tra l'acqua che ho scaldato e l'acqua che arriva in casa. Per scaldare i caloriferi, il riscaldamento del pavimento o qualsiasi altro mezzo di trasmissione del calore. Quindi cosa devo fare? Il rendimento medio attuale di una caldaia non a condensazione è di 0,9. 0,9 cosa vuol dire? Che il 90% del calore che ho immesso nella caldaia bruciando il metano lo tengo. Il 10% lo perdo. Quindi, dei nostri 52.200 MJ teniamo 46.980 che effettivamente entrano nei nostri caloriferi e ci scaldano la casa. Noi dobbiamo replicare con la legna la stessa quantità di calore. Ovviamente tenendo conto del rendimento di una stufa legna, che mediamente è diverso ed è un po' più basso. La legna da ardere, come anticipato, ha poteri calorifici diversi in base alla sua umidità. Abbiamo 7,2 MJ nel caso di legna verde, quindi col 50% di umidità. 50% di umidità significa che il 50% della massa del legno è costituita da acqua. Abbiamo 12,2 MJ al kg nel caso di legna essiccata un anno, che ci porta ad avere circa il 25% di umidità. E infine abbiamo 14,4 MJ al kg per una legna essiccata circa due anni, che ci porta ad avere il 15% di umidità. E quindi, una parentesi, come avrete ben notato, passiamo da 7 MJ a 14,4. Abbiamo raddoppiato quello che è il calore sviluppato dallo stesso peso di legna, perché parte di quel peso di legna era costituito da acqua e non da legno, che è un combustibile che ci dà calore. Un'altra informazione, sia per quanto riguarda il metano, 36 MJ, sia per quanto riguarda la scaletta dei valori dei MJ della legna, parliamo di potere calorifico inferiore. È quello che tiene conto del calore necessario a far evaporare l'acqua residua all'interno del legno o del nostro combustibile per quanto riguarda il metano. Quindi vuol dire che il potere calorifico inferiore è sempre un po' meno del superiore, perché è il superiore che è il calore specifico che il nostro combustibile emetterebbe in condizioni di 0% di umidità. E sia per il metano, ma soprattutto per la legna, come abbiamo visto, dove l'umidità è molto variabile, non esiste questa condizione, perché almeno l'umidità dell'ambiente la legna ce l'ha. Questa è una parentesi per rendere più chiaro il calcolo e per rendere più chiari i numeri che vi ho dato. E arriviamo al dunque. Quanta legna ci serve per sviluppare la stessa quantità di calore che avevamo prodotto col metano, che vi ricordo essere 46.980 MJ? Allora, con la nostra stufa legna, dove consideriamo un rendimento della nostra stufa legna del 78%, vuol dire che dobbiamo sviluppare, con la nostra legna, 60.230 MJ, quindi più di quella che effettivamente poi la stufa ci dà, perché quella che manca l'abbiamo persa nella canna fumaria. Bruciando legna secca ci serviranno 41,8 quintali. Questo ovviamente parlando di legna secca al 15%, quindi l'unica che avrebbe senso bruciare per non sprecare legna. Tutte le altre ovviamente ne serve un quantitativo maggiore, perché dobbiamo fare evaporare, come abbiamo detto prima, l'acqua contenuta al suo interno. Ma in euro questo cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo pagare la nostra legna fino a 47 euro al quintale consegnata per equivalere quello che è il consumo di metano, o meglio, quello che è il costo di metano per avere la casa scaldata alla stessa maniera. Ovviamente però bisogna essere onesti e bisogna ricordarsi che la legna nella stufa non ci entra da sola. Dobbiamo metterla sotto la catasta, dobbiamo metterla nella stufa e caricare, quindi non è completamente indipendente. Dobbiamo capire quanto ci vale a noi tutto questo lavoro, in base a quanto tempo abbiamo, quale spazio abbiamo, eccetera. Ma quella è una valutazione personale. Noi abbiamo parlato dei conti per sviluppare il calore necessario a tenerti la casa calda. Ci tengo a rimarcarti un'altra cosa perché è importante. Con questi conti ti rendi conto di quanto è svantaggioso bruciare una legna verde, perché vuol dire che tu ne devi usare il doppio per scaldare la tua casa. Una cosa che non trascurerei tra quello che ho detto è il fatto che ho dato un potere calorifico al chilo uguale per tutte le varietà di legna. Non ho specificato di che legna stavamo parlando. E questo potrebbe sembrare strano, invece è giusto, nel senso che la variazione di potere calorifico al chilo è veramente minima in base alle varie essenze, però al chilo secco, ok? Il mio consiglio che mi sento di dare a chi deve acquistare legna è quello di acquistare legna al metro cubo, perché è vero che abbiamo detto che il potere calorifico varia in funzione dei chili e non dei metri cubi, però, dato che varia anche tantissimo in funzione dell'umidità, se voi acquistate a metro cubo, la variazione di volume è quasi nulla tra il secco e il verde, siete sicuri che quello che comprate oggi o fra qualche mese vi darà il potere calorifico che vi deve dare quell'essenza di legno. Ovvio, comprare al metro cubo essenze di legno pregiate. Se andate a comprare una mista al metro cubo, ricordatevi che vale meno di acquistare una legna selezionata, come rubigna, quercia, frassino o carpino, al metro cubo. Ricordatevi anche questo. Questo video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia risultato utile. Quindi ricordati di lasciare un like al nostro video, commentare qui sotto se qualcosa non ti è chiaro, ma soprattutto di iscriverti al nostro canale, di attivare la campanellina in modo che sarai aggiornati su tutti i nostri nuovi video. E se questo video ti ha risolto un problema, condividilo anche con le persone a cui pensi possa interessare. Ciao e alla prossima!